Oggi andiamo a esplorare l'azione impulsiva, quindi vediamo la parte teorica, come funziona in dettaglio e come realizzarla con il ladder. Iniziamo subito. Vediamo come realizzare un'azione impulsiva. Sfruttiamo un esercizio che stiamo portando avanti da un po' di video, ci serve per fare queste prove, in cui ho inanellato quattro stati chiamati 0, 1, 2 e 3. Questi stati sono collegati da delle transazioni legate alla pressione di due pulsanti. In ogni stato vado a accendere con un'azione di quelle base un led, quindi qui accendo il led 0, questo aspettiamo, nello stato 2 vado a accendere il led 2, nello stato 3 vado a accendere il led 3, scrivo qui dentro in piccolo. Nello stato 1 voglio realizzare un'azione impulsiva, quindi la riconosciamo perché c'è scritto P e andrà a pilotare il led 1. Come funziona l'azione impulsiva? Allora, qui abbiamo BT0, BT1, BT0 e BT1. L'azione impulsiva, facciamo un diagramma temporale, quindi questo qua è il BT0. A un certo punto avremo l'impulsino su BT0, questo mi fa entrare nello stato 1, quindi sono dentro nello stato 1, questo resta attivo e ci starò finché non pigio il pulsante BT1. Quindi qua avremo la transazione attiva, fa cessare lo stato. L'azione impulsiva è molto semplice, la vado a mettere qua con la A, quindi quando si attiva lo stato avremo un impulsino della durata del tempo di ciclo, c'è il tempo di esecuzione di tutto il codice all'interno del nostro PLC, quindi è come se fosse il loop di Arduino. L'ampiezza di questo impulsino dipende da quanto tempo ci mette a eseguire tutto il codice che ha nella pancia e dura comunque un ciclo. Per realizzarlo adesso andremo a vedere come possiamo fare. La traduzione in ladder di questo sistema, ma se il vostro ambiente di sviluppo non lo supporta, come nel mio caso, perché ho un S70002, va fatta appunto in ladder. Qui ci manca solo la descrizione hardware, rapidamente la riportiamo qua. Quindi questo è il nostro PLC, avremo due pulsanti, i due pulsanti che ho chiamato BT0 e BT1, li vado a collegare tra i 24V che fornisce o l'alimentatore o direttamente PLC, come nel mio caso, e li vado a portare agli ingressi I0.0 e I0.1 del PLC. Quindi li chiameremo di conseguenza BT0 e BT1. Le uscite le prendo quindi il lato Q, abbiamo Q0.0, 0.1, 0.2, 0.3 e vado a collegare dei LED con un resistore da 2K2 perché sono alimentati a 24V, occhio che alle uscite dovete fornirgli sul morsetto il 24V, altrimenti non funzionano. Quindi qua ho il LED e poi li collego tutti insieme, in modo che ho 4 LED che mi danno un'indicazione dello stato, così riesco a capire un po' come è messo e come funziona il mio circuito. Quindi sui 24V, ok, disegnate un po' a zampa di gallina, li porto tutti verso GRAM, questo è l'hardware. Ora andiamo a vedere il codice. Avremo le transazioni di stato che realizzo in modo classico, quindi un contatto che va a leggere il flag di S0, nel primo caso rilevo anche la transazione su BT0. Se scatta BT0 vado a fare il set dello stato S1 e il reset di S0. Così per tutti gli altri, quindi ve li ripeto per completezza, posso fare lungo, vado a mettere qua tutti i miei contatti, questo qui è il contatto dato dallo stato, quindi S1, S2, S3. Quando S1 è attivo, se pigio BT1, allora vado a impostare con set lo stato S2 e vado a resettare lo stato corrente con S1. Per S2 è lo stesso, solo che qui avremo BT0, quindi se scatta BT0 faccio il set di S3 e il reset di S2. Stato S3, qui avremo però BT1, se pigio BT1, allora vado a fare il set di S0, perché riparto da capo e faccio il reset di S3. Questo per i cambi di stato, poi le azioni, iniziamo a fare quelle facili. Le azioni sono collegate ai vari stati, quindi avremo per lo stato S0, metto il contatto, e qui attiveremo il LED 0. Poi lascio un buco, qui metteremo lo stato S1, stato S2, molto semplice, va a accendermi il LED 2, ci servono per indicazione, e poi stato S3, dove vado a accendere con la bobina il LED 3. Ora occupiamoci dello stato S1, dove dobbiamo generare un impulso. Quindi come facciamo a generare un impulso? Allora intanto partiamo con il contatto su S1, questo ci serve per attivare l'impulso solo se siamo in questa situazione, e poi dovremo crearci un marker di servizio che chiameremo Pulse. Quindi questo inizialmente sarà pari a 0, e qui ho il LED 2, su cui genereremo questo impulso che abbiamo visto prima. Non si vedrà quasi, perché è troppo veloce, anche se guardando bene sui LED del PLC poi si vedrà un piccolo bagliore. Allora, devo creare una roba del genere. Vado a mettere quindi un contatto negato legato a Pulse. Io faccio così, e qui invece vado a fare questa cosa qua, vado a attivare Pulse. Quindi inizialmente S1 è a 0, Pulse è a 0. Quando si attiva S1, vediamo se riusciamo a fare un diagramma temporale, S1 si attiva. Come si attiva? Visto che Pulse, lo metto qua, P è basso, qua dovremmo dividere, ogni colonnina è un tempo di ciclo del mio PLC. Quindi inizialmente Pulse è basso, entro, perché S1 scatta, quindi Pulse qui vado a prendere l'opposto, quindi riesco a procedere, andare a accendere il LED. Quindi questo qui è il LED 2, il LED 2, quindi scatterà e si accenderà. Entrando però vado anche a accendere Pulse, quindi cambio lo stato, qui in mezzo abbiamo anche il cambio del livello di Pulse, che diventa alto questa volta, diventa alto, e quindi il giro successivo, vedete che S1 è sempre attivo, Pulse è diventato alto, e quindi questa volta di qui non ci passo, quindi il LED si spegnerà, e questo farà sì che avremo generato questo impulsino su L2. Poi cicli successivi, Pulse viene sempre tenuto alto, perché riusciamo a entrare, e quindi io qui al LED non riesco più a arrivarci, quindi generiamo questo impulsino qua. Il video di oggi termina qui, nel prossimo video vedremo come realizzare l'azione impulsiva utilizzando TIA Portal. Per oggi è tutto, vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo domani, Ciao!